Lettrici e lettori di Giallo Cucina, rieccomi qua. Chi ci sarà mai oggi per questa video recensione? Beh, un autore che io apprezzo molto, milanese, quindi lui è Fabrizio Carcano, lo conoscete già, non dite di no, il cacciatore di Caino. Eccoli qua. È un romanzo che è uscito poco tempo fa e adesso vi spiego che cosa è. Allora, siamo sempre a Milano, il protagonista è il commissario Ardigo, che è il capo della Omicidi di Milano, che si trova una bella vega. Non uno, ma due, quanto pare, serial killer che si aggirano per Milano. Uno è un serial killer chiamato il viaggiatore. Il viaggiatore non solo ha ucciso Milano, ma ha ucciso in tutta Europa, in tanti anni, almeno in un ventennio. Invece, a un certo punto, si trova anche a dover indagare su un altro, un'altra serie di omicidi. Sono molto legati questi alla cerchia ecclesiastica, in cui praticamente anche i suoi amici inquisitori gli daranno una mano per risolvere questo caso. Saranno collegati queste due serie di omicidi? Ci sarà la stessa mano? Voi dovete solo leggerlo e capirlo. Che cosa mi è piaciuto tanto? A parte che Fabrizio è bravissimo, a mio avviso, quando si parla di essere precisi sulla polizia, su cosa succede, sulle dinamiche che ci sono. In più è bello perché è ambientato nel gennaio 2020, in cui l'autore, lo scrittore, scusatemi perché secondo me è scrittore proprio detto come va detto, comincia a parlare anche del famoso coronavirus, quindi quello che sta venendo fuori. Quindi quando si fa dei massaggi, una cinese che gli fa i massaggi, comincia a parlare di quello che succede in Cina. Arriva praticamente, perché è ambientato proprio nel gennaio del 2020, cioè proprio i nostri giorni, e quindi è un'indagine in cui si arriverà anche poi il famoso lockdown. Ma questo è un'altra cosa, perché il lockdown in quel momento lì non lo tocca. Mi piace sempre come caratterizza il personaggio, perché è bravissimo Fabrizio Carcano a caratterizzare proprio il commissario, la sua cerchia e tutti quelli che ci sono intorno. È una storia veramente che vi tiene lì, quindi non ti snocciola niente che non possa essere, diciamo così, che ti porti subito a capire il finale. Invece è un'indagine, un bel poliziesco secondo me, che ti porta passo a passo, per manina, fino alla fine. Per chi ama magari Milano e Roberge, anche Fabrizio ci mette la sua città, anche se lui abita a Bergamo, ma ha vissuto a Milano. Lui si sente l'amore che c'è per la città, si sente anche la periferia, parla molto della periferia, non del centro, parla molto di... si sente, si trassuda l'amore che c'è, che ha una persona per la sua città, con tutti i suoi pro e tutti i suoi contro. Che cosa ho pensato per questo book trailer, per un book trailer eventuale di questa canzone? Io ho pensato agli Aerosmith con un fantastico Dream On. Secondo me è la colonna sonora perfetta per questo libro. Quindi non mi resta che di salutarvi, lasciarvi tra le notte degli Aerosmith e tra la lettura di Fabrizio Cercano e di Cacciatore di Caino. Alla prossima!